7 euro all'ora per fare le pulizie negli ospedali, nelle scuole, negli uffici, per pulire gli autobus. 7 euro l'ora con tanti altri problemi, 7 euro l'ora, lordi, potrebbero andare bene a full time, a tempo pieno, però tali lavoratori spesso sono costretti a lavorare a part time, per un orario ridotto. C'è una manifestazione, una protesta di tali lavoratori che, ripeto, sono pagati 7 euro l'ora per ogni ora e le ore di lavoro settimanali spesso e volentieri sono poche. Beh, io la notizia l'ho letta sul Fatto Quotidiano e tale notizia ve la metto come lì nel riassunto di questo video. Certo, una situazione, diciamo così, disperata direi, è una situazione patriarcale, è in patriarcato che avvengono queste cose, però io vorrei far notare che in Italia ci sono 1.655.000 badanti. Io vorrei far notare che in Italia ci sono 1.655.000 badanti. Il 77% di questo 1.655.000, il 77% sono straniere, quindi il 77% di 1.655.000, vuol dire che in Italia ci sono 1.000.000 e 1.000.000 di badanti straniere. Ecco, io quindi propongo che questi addetti alle pulizie, moltissimi dei quali sono donne, sono donne che fanno le pulizie negli uffici, negli infiniti uffici italiani, della burocrazia italiana. Io proporrei che buona parte di queste donne che fanno le pulizie a 7 euro l'ordi ogni ora, ma lavorano poche ore, io proporrei che andassero a fare le badanti, a sostituire le badanti straniere. E le badanti straniere in Italia sono poco più o poco meno di un milione. Se l'Italia ha bisogno di un milione di badanti straniere, vuol dire che le donne italiane non vogliono fare le badanti. Va bene, guardate che io nel riassunto di questo video vi metto sia l'articolo del Fatto Quotidiano, che parla della triste situazione dei lavoratori e delle lavoratrici addetti alle pulizie, dei pubblici uffici, degli ospedali, delle scuole, eccetera, sia la notizia relativa alle badanti che lavorano in Italia, e di questo milione e 660 mila badanti che lavorano in Italia, oltre un milione è costituito da badanti che vengono da fuori, dall'estero, perché si capisce che le donne italiane non vogliono fare le badanti, invece le straniere, quelle che vengono dall'Europa orientale, fanno le badanti perché hanno fame. Se loro vengono dall'Europa orientale a fare le badanti da noi, vuol dire che da loro si sta molto peggio che da noi, e non so se mi spiego, comunque ripeto le notizie, io ve le metto come l'igno al riassunto di questo video, le notizie sono due e vanno messe insieme, vanno confrontate così come in tanti altri casi, per esempio nelle stalle italiane, specialmente nelle stalle della Valle Padana, abbiamo migliaia, decine di migliaia di mongitori, mongitori che vengono dallo Sri Lanka o dall'India, mongitori, quelli culturbanti, quelli di quella religione là, la religione dell'India, l'India misteriosa di Emilio Salgari, va bene? Così come abbiamo tanti uomini di colore che lavorano nei nostri campi per raccogliere arance, olive, pomodori, eccetera, io ricordo che ai miei tempi, ai miei tempi quando io ero un ragazzo, in Italia di uomini di colore non ce n'era neanche uno, uomini di colore in Italia ai miei tempi non ce n'era neanche uno, perché ci pensavamo noi a raccogliere arance, olive, pomodori e anche a mungere il latte nelle stalle, va bene, queste sono le mie considerazioni, in ogni caso, certo che in patriarcato questa è una situazione molto diffusa, c'è chi è troppo ricco e c'è chi è troppo povero e la situazione patriarcale è descritta in questa mia opera storico-mitologica. Va bene cari amici, non so se mi sono spiegato, casomai non mi fossi spiegato, fatemelo sapere che io cercherò di spiegarmi meglio. Ok, a tutti, tanti cari saluti da dalla stilpe del serpente.